Durante la strada mi ha molto insistentemente provato a convincere a dire no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre. Mi ha detto cose del tipo, perché mi fai questo? Perché sei così cattiva? Sai che mi fa male quando uscite da sole. Siete già andate a fare colazione due settimane fa. Se la cosa succede davvero, niente sarà più come prima. Così Giulia Cecchettin descriveva alle amiche i messaggi che riceveva dal coetaneo Filippo Toretta, all'epoca suo fidanzato. Niente sarà più come prima, diceva la sua allora fidanzata Giulia Cecchettin, preannunciando un'oscurità che si sarebbe poi concretizzata. In questo contesto di gelosia e possessività morbosa si è consumato il tragico femminicidio di Giulia, avvenuto il 12 novembre a Vigonovo, Venezia. I messaggi, mostrati durante la trasmissione Chi l'ha visto, sono fondamentali per comprendere meglio il contesto in cui è avvenuto questo terribile delitto. Stremata da queste continue pressioni, Giulia aveva preso la decisione di interrompere la relazione con Filippo. Desiderava vivere la sua libertà, ma il ragazzo non voleva accettare la fine della relazione. Continuava a insistere per incontrarla. La vittima aveva confidato alla sua migliore amica, Giulia, di provare timore nei confronti di Filippo. Poco prima del tragico evento si era verificato un episodio inquietante. Filippo e Giulia erano andati insieme in una gelateria. Racconta l'amica. Lui le aveva chiesto di nuovo di tornare insieme. Lei aveva rifiutato e Filippo aveva avuto una reazione spropositata. Si era alzato e aveva sbattuto le mani sul tavolo. Giulia mi aveva detto, per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone perché ho avuto paura. Negli ultimi tempi Giulia aveva suggerito a Filippo di consultare uno psicologo. Lui l'aveva ascoltata e aveva già effettuato quattro sedute. La quinta era fissata per il 17 novembre, ma il ragazzo non si era presentato. Cinque giorni prima, il 12 novembre, commise l'omicidio. Chiese a Giulia di incontrarlo e lei la consentì. Lui la prese in macchina, cenarono insieme, ma dopo il pasto non la riportò a casa. Si fermò in un parcheggio a 150 metri dalla sua abitazione. Forse tornò a chiedere di riappacificarsi. Di fronte al rifiuto di Giulia, estrasse un coltello e la aggredì. Poi ripartì e la portò in una zona ancora più isolata, nell'area industriale di Fossò, dove commise il femminicidio. Oltre alla sua amica Giulia, si confidava con la sorella Elena, ma non le aveva mai menzionato l'episodio della gelateria. Racconta Elena. Anche se lui fosse stato violento, probabilmente non me lo avrebbe raccontato per paura di deludermi. Giulia non era più una ragazza libera. Stava vivendo un periodo infernale. Le chiesi con chi sarebbe uscita e quando mi disse che ci andava con Filippo, io non ero tranquilla. Pensavo che sarebbe stata l'ennesima occasione di litigare, perché ultimamente, quando si vedevano, litigavano sempre. Io ero particolarmente ostile nei confronti di Filippo. Non ero tranquilla. Sia quando parlavo di lui che quando parlavo con lui, mi facevo valere. Non lo sopportavo. Forse per questo Giulia si era un po' chiusa. Non mi aveva mai detto che aveva paura di lui. Elena è devastata dal dolore. Desidera ardentemente che nessun altro debba mai vivere il calvario che sta affrontando. Continua così. Pensare a tutte le possibilità che sono state tolte a Giulia. A tutte le cose che non potrà più fare. Filippo l'ha uccisa, ma prima ancora la controllava. Le metteva pressioni. Lei non era libera di vivere la sua vita. E poi lui sembrava essersi messo in competizione con me. Mi diceva, guarda che la conosco meglio io. Quando si erano lasciati, diceva a Giulia che lui era il suo migliore amico. Giulia aveva commentato in credula, è una cosa che ha deciso lui. Per me non è il mio migliore amico. Lui è il mio ex fidanzato. Il 16 novembre Giulia avrebbe dovuto celebrare la sua laurea. Un momento in cui essere la protagonista indiscussa. Filippo però non poteva tollerarlo. Ha distrutto tutto prima che potesse avvenire. Tuttavia, in un certo senso, quel giorno Giulia lo vivrà comunque. Il prossimo 2 febbraio, l'Università di Padova le conferirà la laurea alla memoria.